Ciao a tutti ragazzi, per questo nuovissimo video, oggi siamo nel primissimo video di StumbleGuys Un gioco veramente molto richiesto da voi E quindi oggi lo portiamo Ebbene si, sono con StumbleGuys, tra virgolette si può dire moddato Perché si ho tutte le skin Infatti come potete notare ho questa bruttissima icona Purtroppo non posso farci niente Però intanto abbiamo tutte le skin E posso giocare normalmente Adesso gli metto questa skin perché mi piace E vi andiamo Sì lo so, non dovrei stare con StumbleGuys moddato però chi se ne frega Tanto non vengo bannato quindi Che StumbleGuys è un altro tipo di gioco Anche se ce l'hai tipo moddato non vieni bannato per senza motivo vabbè Chi se ne tanto Ok perfetto, andiamo subito la prima partita Oddio santo, proprio questa mappa Io odio il ghiaccio sia su FallGuys sia su StumbleGuys Che mi da un botto di problemi Cioè poi solo 16 qualificati Mi stai dicendo che posso fare massimo Va bene Da questa parte Ah però comunque la cosa più bella A parte il fatto che uno può fare intanto Posso leggermente andare a ghicchiando vedo vabbè Che se ne frega Il botone che riesco a giocare Comunque Ho notato comunque che rispetto a FallGuys il personaggio Si muove un poco più Parte veloce Poi leggermente più liberamente rispetto a FallGuys che Madonna Quello gioco proprio fa smadonnare Ma fatti scherzi Ci qualifichiamo per secondi E GG E prima partita Ok perfetto Round è finito E ora passiamo subito A vedere Vabbè Vengono a squalificare un botto di gen Cioè raga rimaniamo solamente in 16 Una roba assurda Vabbè Intanto si Rimaniamo solamente in 16 Fatemi un attimo abbassare la voce Perché Non vorrei troppo far sentire la voce Poi non si sente la mia di voce Quindi Passiamo subito a seconda partita Perché detto sinceramente Perché questo è un gioco tipo storia Quindi Un gioco tipo online Normale Un po' come tutti divertente Quindi preferirei che sentiate più me Che il gioco Quindi passiamo subito Oddio questo Ma perché le mappe peggiori Mi deve farmi capitare E Dai lo sapevo io Poco più veloce Signor personaggio Ok Sandy Ecco qua Che cacca sotto che sono Due di fila Ok Ok No niente Raga è impossibile saltarci Vabbè Perché se fosse possibile Cioè il gioco sarebbe già rotto Questa mappa Ok da questa parte Prima le donne E poi gli uomini No no Io non ci vado Ok Di qua No vabbè Non ci voglio credere Eh E ora di qua Di là Sì vabbè va Faltano a caso questi E vabbè Quindi questo Non ci voglio credere Dai non ci voglio credere Non mi ha saltato Non mi ha saltato Non mi ha saltato Oh mio dio Che cacca Poi giù se perdevo Per quello Per quello Assoluto Veramente Però se non perdevo Dai ero 1-3 più Inqualificati Però vabbè Non è che mi cambia Sei importante Che mi qualifico E vinco Perché se il gioco Ho solente vinto una partita Invece Doi fall guys E pure Solo una Una mia partita Vediamo a vedere E vabbè Ok Attenzione quando salto Perché ho paura No Non ci voglio credere Già la finale Questo No 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 dai Poi io faccio Fai un'altra Carinissima mappa Ok Già 3 su 7 Meglio Sì Buongiorno Oh mio dio Come ho fatto Non lo so 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 Tutto No ragazzi Ma perché Tutte le mappa Perché tipo Voglio le mappe Che io devo beccare Non ci voglio credere 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 No io non ci voglio credere GG per il signor player Passiamo la prossima partita Ragazzi io vi giuro Se perdo pure questa Solo per quella mappa Di Non si dico Nei parolacci in video E quella mappa di merda Scusate Però dovevo dirlo Non ce la facevo Ecco Questa qui è un'altra Mappa Una di quelle mappe Che io odio Però Qui trick si possono fare Faccio un esempio di trick Questo qui Ecco Quella bella figura Grazie Che uno Un play game viene contro E poi mi fa bagare il salto Vabbè dai Poi nel nostro gioco Poi mi fa sclerare Perché Ma infatti Fatta che Fall Guys è peggio A livello di Far sclerare Robbe simili Ma pure Stamble Guys Madonna Madonna Mamma mia Oh Stamble Guys Com'è Oh mio dio No per favore Ok Io mi dico sì Perfetto No dai Ok Stavolta mi è riuscita Questa mini trickata Sì lo so Ho giocato a poco E già voglio fare trickata Lo so però Per dire Ok andiamo Movi di Oh lì Perfetto Nice Nice Passiamo alla prossima partita Subito Mentre che noi Ci siamo benissimamente Qualificati Molto molto bene Passiamo subito Alla prossima partita Sì Passiamo subito Alla prossima partita Nice Io un po' Quale che ci capita Ci capiterà Proprio Sì però basta girare Se mi stia girando la testa A me Praticamente Ok Ah Di nuovo Vabbè dai Se ci abbiamo fatto prima Ce la faremo anche ora Spero E com'è che si disattivano i nomi Mi dà leggermente Passiamo Non troppo Però per dire Leggermente Cioè magari che si veda Solamente il mio Che carino Ma che gli altri nomi Facciano schifo Però Ok Iiii Aiuto Dai 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 Non c'è più Ok 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 Dai Che sfiga Che sfiga Si però pure il personaggio Ma dovrebbe essere più libero A livello di tipo Fare questo Uno su otto Ecco qua Due Tre Quattro Cinque Sei Ok Ok Ce la dovremmo fare Spero Muoviti 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 Si può essere più scemo di così Cioè ditemi voi Dai che ce la faremo 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 Perfetto Molto bene Oh mio dio Rega Oh mio dio Rega comunque Se vedi il tipo Che quando ispec Da una persona Vedo questa Ma con la mia stessa skin È normale Da una parte Perché effettivamente Così è È un bug Di questa mod Non è che ci posso fare tanto Però Non è che funziona bene il gioco Non è che mi dà stessi dettagli Ma questa è una finale No Non ci ci voglio credo Rega Poi dobbiamo fare Iniziamo Si inizia bene Si inizia bene Rega Io sta finendo Lo so fare Sentite Guarda lì Guarda Già sto più avanti di me Sì Vabbò Buongiorno Non ci arriverò mai Non ci arriverò mai Lo sapete Vero sì No aspetta Qui no Qui no Perché si fa Eccolo qui Scherzavo Mannaggia a me Eh rega Non ce la fermo mai Di arrivare i primi Che peccato Però ce la facciamo Sembra di arrivare In finale Però solo per un mini pelo Non ce la facciamo a vincere Io veramente Ok qui si faceva così Bene Quindi andiamo sempre più veloci Va bene Quindi andiamo qui Che Vabbè qui Più o meno Più o meno Vabbè vabbè dai Gigi ci sta Ci sta Purtroppo non l'abbiamo vinta Vabbè Due partite di fila Non vinte Io veramente Non ce la faccio Questo gioco Veramente Oh mio dio Oh mio dio Questo gioco Mamma mia Cioè veramente Quindi rega Spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Con campanella attiva Mi raccomando Condividete il video Con tutti i vostri amici E nulla da rega Siamo qui domani Con un prossimo video Ciao rega